Diventa senatore della Repubblica l'ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Conquista l'ambito scranno di Palazzo Madama sull'onda del successo del centrodestra che in Calabria fa registrare anche un particolare applauso per la squadra di Forza Italia. Mario Occhiuto si dice più che soddisfatto. In realtà io non pensavo neanche di diventare sindaco di Cosenza, quindi sono innamorato anche della mia attività professionale, che è quella dell'architetto, che poi l'architetto si occupa di temi sociali, di temi urbani, ed è quello che faccio, che ho fatto anche da sindaco e che adesso farò anche all'interno di un'assemblea legislativa come quella del Senato. Cioè porterò le mie competenze, anche quella che è stata la mia esperienza, non solo quella amministrativa ma quella professionale, all'interno di quell'aula. Credo che potrà essere anche utile al Paese e soprattutto al nostro territorio calabrese. Ho girato in questa breve campagna elettorale, breve ma ripeto in denza, ho girato per tanti centri urbani, ho incontrato tante persone, tutti mi dicevano sempre e riconoscevano il lavoro che avevo fatto come sindaco a Cosenza. Quindi tutto sommato quei dieci anni sono serviti anche a lasciare il segno di un impegno, di un amore per il territorio che oggi, in un altro ambito che è quello senatoriale, vorrò riversare su tutto il territorio calabrese con lo stesso impegno, con la stessa passione che ho fatto da sindaco. Grazie.